Musica Ci troviamo al Parco della Pieve, uno dei luoghi più famosi del paese di Cavalese. All'interno dell'ampio polmone verde sono ospitati tre edifici sacri, religiosi, la Pieve di Santa Maria Assunta, la Chiesa della Madonna Dolorata e la Cappella di San Giuseppe. Oltre la sfera sacra e religiosa, in questo luogo c'è un monumento di origini seicentesche che è il Banco della Resona, che vedete da mia spalla. Un monumento in pietra, sassi, di forma circolare, composto da, formato da scrani, sui quali si sedevano lo scario, i regolani e i vicini capofuoco, in occasione dell'assemblea estiva che un tempo si teneva il 15 di agosto. In questo luogo non si legiferavano leggi, non si amministrava la giustizia, ma venivano prese delle decisioni di carattere pratico. Il parco era anche teatro di fiere e anche di feste, come dei balli che si tennero fino al 1700.